un video che avevo già anticipato di massaggio alla schiena e ho con me una crema corpo e un olio cominciamo dalla crema ne prelevo una quantità abbondante e la spanno così i sottotitoli Vado un po' scendo, vado un ottimo dall'altra parte. Cerco di fare la giusta pressione, cerco di non fare troppa pressione. Cerco di lavorare soprattutto in queste zone qui, che sono quelle in cui si accumula più stress, in cui appoggiamo anche tutto, borsa, zaino, un po' esercizice il collo, e si riadiscano le spalle. Cerco veramente di lavorare in questa zona. Cerco di portare giù. Grazie. 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 Spero che riusciate un po' a sentire. Sono della pelle. a te. Nuovii. Buongiorno Nel passaggio sul collo. Vabbè, qui. Di solito a me si accumula la tensione qui, un po' qui. a lei invece si accumula più qui sopra, tipo qui no? secondo me è molto... dipende molto dalla posizione che si assume durante tutta la giornata dipende come si tengono borsi, zaini e hanno soprattutto la postura io tendo a stare storta, lei tende a stare un po' coppa quindi abbiamo... è vero quindi abbiamo due male in due posizioni diverse poi potrei dire una pevolata ora vado a usare questo olio ok, un olio all'arnica con pinomugo e questo è fatto proprio per aiutare con... a sciogliere i muscoli infatti l'arnica la frizione all'arnica con l'anno essenziale di pinomugo è l'antico rimedio per la cura del corpo da utilizzare per il massaggio muscolare ottenere una immediata e durata sensazione di benessere che è ottimo soprattutto per il massaggio dopo l'attività sportiva non è il nostro caso ha più da che ho le mani volte questo devo dire la verità è un olio un po' secco che tende ad assorbirsi quasi subito quindi... vado ad abbondare un pochettino e questo è un olio di fresco pazzesco e questo è ovviamente l' Schnee in questo caso me è il colico vabbè è stato tutto ho sentito il caldo? non si sente? no? vabbè ok adesso provo a massaggiare un pochino anche la parte centrale grazie